Ciao a tutti ragazzi, sono Misafiappola97 e questo qua è il primo commentary live che farò, e poi farò anche altro, comunque anche il primo commentary in tutto dei miei video, sto giocando al gioco delle armi e adesso ho fatto cose uguali, speriamo che venga fuori Nuketown e spero che vada bene, questo qua è già il quarto tentativo che sto facendo, prima sono arrivato secondo, no, Kowloon, no, no, fa schifo Kowloon, tutti dicono che l'app è migliore del pacchetto mappa, la più schifosa, la migliore secondo me è quella zombie, poi c'è Perlin'Wall, poi c'è Stadium, Discovery e questo qua, questo qua mi fa veramente vomitare, vabbè, se sentirete poco i rumori degli spari è perché ho abbastanza di volume, perché sennò sentirei poco la mia voce, comunque va bene, va bene, va bene, partiamo, vai, 10, 9, 8, 7, condizione? Boh, no, va bene, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dai 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 dai, Non la conosco mai poi, non la conosco neanche questa, poi non se lo riamaccio mio, nonbanse io magari è esperta con il sito, oh, perfetto, partiamo bene! Ah, questa volta l'app che schifoso magari fa vincere, eh... ma c'è anche tanto la modità scommessa perché non ci sono quelle maledette che le amor sensore in movimento quello che è lì oh lo stakeout non delude neanche la mpc5k deludero qua cos'è che fa con la misteri strend ok ok se così si ragiona cosa che sta facendo? spettando quello lì che scende? no, coglioni cosa dai, dai ragazzi questo qua va bene dopo ennesimi dopo nn tentativi magari ce la farò per una volta sono andato abbastanza bene ma sai ma cos'è? sono tutti nabbi quelli dell'altra squadra cioè avversari unice 3 è un po' esagerato come risultato eh per me va benissimo ma per gli altri noi buerini o sono d'accordo con me io non lo so però vabbè non credo forse mi devo andare via va ah il marker no non fammeli fare ok non è un quickscope però sempre bene oi la vabbè faccio il giro sennò mi brancano vabbè ci voleva non ci sono sono 14 2 ammazzola non ho ancora mai morto ma questa è un po' di tariffo questo quale se viene no ma cos'è che se viene iniziato a svegliarsi e uno dai oi carica adesso sto ovigliando perché oh e vai mi ha ucciso però almeno ho superato con l'arma lì che non mi piace preferivo di gran lunga il tristo il tristo mititori quello che si chiama così quello che il cannone quello con un quarto poi l'altro volta non so perché io la spazio non ho fatto in tempo a sparare intanto mi capita che c'è una cosa che sparo però poi il colpo non parte no quello là non l'ho visto e su basta e non sparo più o meno che non sono sicuro eh trovassi una persona che scasse il mondo che scasse il mondo poi con sti bazooka sono piccoli ma sono liti come delle capre non so poi se le capre sono ah che fare di smacca cosa vuoi alberto no mi aspettavo non so che stai facendo alberto stai peggiorando eh oh sveglia oh dai finalmente adesso quello là l'ha matto non c'è nessuno ora oh mi sta bene quello là questo è mio e questo è mio ah che cosa che ti chiedo guarda più alto di tirarla eh prova no no tempi ma dai come ho fatto a vendere il palo non dimmi che perdo il resto se perdo il resto mi arrabbio mi arrabbio sul serio anzi se perdo il resto oh finalmente vinto 30 soldi tantissimi penso fossero veri vabbè adesso vediamo la killcam finale guardate che classe vabbè se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale mi piacciono se volete un mi piace ciao ciao ne farò altri video ciao ciao